Gioca ad anticipo la giunta di Verbagna che ieri ha approvato lo schema di bilancio per il 2018, una scelta che spiega l'assessore al bilancio Cinzia Vallone. Abbiamo voluto farlo con anticipo rispetto ai tempi passati per essere operativi fin da fine gennaio dopo la discussione e l'approvazione in Consiglio Comunale. Il bilancio pareggia quasi 65 milioni di euro e prevede la partenza di grandi e significativi progetti, prosegue Vallone, su cui l'amministrazione ha creduto e lavorato molto in questi ultimi tempi, partecipando con successo ai bandi Fesdra e al bando Periferie. Tra essi la riqualificazione delle spiagge cittadine, intervento da un milione di euro, la conclusione della pista ciclabile dai tre ponti a Suna dopo il primo lotto in fase di costruzione che collegherà a fondo tocce la zona turistica dei camping al centro urbano, la riqualificazione di Villa Simonetta e Intra e di Villa San Remigio come polo culturale turistico nella quale sono già partiti alcuni importanti lavori di ristrutturazione. Previsti inoltre interventi su Palazzo Dugnani, sede del Museo del Paesaggio, Palazzo Biumi Innocenti a Pallanza. Partirà anche il secondo lotto dei lavori per la sistemazione del movicentro. È un bilancio che mantiene inalterato il livello dei tributi per i cittadini dopo la diminuzione della tassa dei fiuti e delle rette degli asili avvenute negli scorsi anni, aggiunge Vallone, e che vede tra le principali caratteristiche la scelta di una capillare riorganizzazione del traffico attraverso un nuovo piano urbano, con interventi per la sistemazione dei marciapiedi, la manutenzione di strade e il rifacimento degli asfalti. In vista anche la riqualificazione di aree periferiche come Fondotoce e la Sassonia. Sarà anche aumentato il budget del bilancio partecipato, introdotto per la prima volta l'anno scorso.